Successo in passato che lo studio della storia, animato da chiaramente impulsi del presente, abbia anche rianimato il presente. Se penso al Settecento, per esempio, l'interesse per l'antichità è nuovo e per l'ennesima volta l'interesse per l'antichità romana o per l'antichità greca porta questa nuova ondata di volontà democratica, di eroismo addirittura, porta l'eroismo che poi sarà quello del tanto Settecento eccetera. Adesso la storia, e questa è una domanda, ho poco tempo per la risposta, so che lei potrebbe espandersi, adesso la storia è diventata un po' una storia per dirla alla niccia antiquaria o ha ancora questa possibilità di essere propulsiva di ideali e di orientamento per il presente. Io devo dire che in questo momento specifico sta succedendo una cosa che secondo me è quasi il contrario di questo ideale, che la storia possa ridare nuove. In questo momento sta succedendo che noi, sempre in Occidente, perché non credo che in Cina succedano le stesse cose per esempio, ma noi in Occidente ci stiamo vergognando del nostro passato. Noi in Occidente stiamo scoprendo che il passato non è stato fatto soltanto da grandi artisti, grandi intellettuali, non è composto soltanto da grandi e meravigliose imprese, ma che nel passato sono state commesse anche grandi infamie e nefandezze di tutti i tipi. Avremmo dovuto saperlo e siccome non siamo dei bambini non dovremmo spaventarci di questo. Invece noi oggi in Occidente siamo davvero un po' dei bambini, siamo sempre pronti a spaventarci, a volerci proteggere dalle brutte cose e quindi quando scopri che la scoperta dell'America è stata anche una grande tragedia per le popolazioni che vivevano lì prima, ecco, la reazione invece di dire che la storia umana è una cosa complessa e che ha tante facce e che noi dobbiamo calarci nel passato per capire chi siamo, la reazione è di dire no allora Cristoforo Colombo credevo che fosse un grande e invece era un criminale, buttiamo la sua statua nel fiume Hudson. Ecco, questa è una reazione infantile che però mi sembra in questo momento specifico la reazione preponderante nel nostro mondo nei confronti del passato.